Se vuoi sviluppare la parte bassa del corpo senza attrezzi a corpo libero, non sottovalutare di inserire nel tuo programma di allenamento gli sprint su brevi distanze. Gli sprint sono un esercizio per aumentare la forza esplosiva e di conseguenza va a stimolare anche l'incremento della massa muscolare di tutta la parte bassa del corpo, senza lasciare il fatto che comunque anche la parte alta del corpo un po' viene coinvolta. Ovviamente non come la parte bassa del corpo. Mi riferisco a polpacci, glutei, quadricipiti, ischio crurali, tutti i muscoli della parte bassa del corpo. È un ottimo esercizio e ti consiglio di farli ad una distanza compresa tra i 50 e i 100 metri. Chiaro, se sei molto lento sarai ad una distanza inferiore per cercare di rimanere sempre nell'arco di 10-15 secondi di sforzo a lattacido. Grazie. Grazie.